Vasta attività di prevenzione e controllo del territorio di Gela da parte degli uomini del commissariato in collaborazione con quattro battuglie del nucleo prevenzione crimine di Palermo. Controllati nel corso della settimana 455 persone e 188 veicoli. Sono stati inoltre controllati 35 arrestati, sottoposti ai domiciliari, 43 sorvegliati speciali e altri 4 che sono in libertà vigilata. Elevate anche 23 multe al codice della strada. Due le persone arrestate, si tratta di Giovanni Salucci, 66 anni, pluripregiudicato, dovrà scontare un anno e sei mesi di reclusione. Arresti domiciliari invece per un uomo di 45 anni accusato di violenza sessuale e lesioni personali. Dovrà espiare un anno e dieci mesi di reclusione. Nove invece le persone denunciate, un 35enne messinese è accusato di truffa, un 51enne già gli arresti domiciliari dovrà rispondere di evasione. Un diciottenne è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo è stato trovato con 8,6 grammi di hashish. Guai per due pensionati di 73 e 90 anni. Non hanno comunicato alla polizia la variazione del luogo in cui deterevano delle armi regolarmente denunciate. Segnalati inoltre un 19enne per resistenza pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di offrire le proprie generalità ed un albanese di 26 anni per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale. Altri due giovani sono stati segnalati per aver violato gli arresti domiciliari e tentato di fuggire ad un posto di blocco. E a Licata i carabinieri e la guardia costiera hanno arrestato Agostino Curella, 34 anni, ed Orazio Sortino, di 29, entrambi i pescatori. Sono accusati di violenza, resistenza pubblico ufficiale, dispersione di cose sequestrate, distruzione di materiale militare, ingresso arbitrario dove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I militari di una motovedetta avevano sequestrato loro le reti perché erano state posizionate all'imboccatura del porto in violazione delle norme del codice di navigazione. Ma i due pescatori, al fine di riprendersi quanto loro sequestrato, hanno aggredito con calce e spintoni i militari e hanno danneggiato la motovedetta della guardia costiera per fuggire. Adesso Curella e Sortino sono stati posti ai domiciliari.